Hanno cercato e cercano di convincerlo a candidarsi sindaco a Palermo Lo rivela PIF, seudonimo di Pierfrancesco Di Liberto. Ospite di, da noi, a ruota libera, PIF ha detto a Francesca Fialdini di aver ricevuto più volte la richiesta di candidarsi a sindaco di Palermo, sua città natale Me lo hanno chiesto diversi partiti politici, sia da una parte che dall'altra Non sarei capace e la sensazione è che chiunque, in quella posizione, non farebbe quello che vuole fare, ma quello che può E poi mi sento molto più utile così. La realtà è che se mi iscrivessi a un partito in particolare, poi non lo potrei criticare, per questo preferisco restare come sono. Così mi sento molto più libero e molto più utile